Eeeh, saluto a tutti e ben tornati nel terzo episodio di Resident Evil 2 Ci eravamo lasciati che questo elicottero si era schiantato, noi eravamo qua Eeeh, niente, abbiamo depositato un po' le cose e siamo ritornati qui Quindi, ah, ok, subito filmato, meno male allora non ero andato più avanti di così prima Claire! Claire! Aspetta, arrivo subito! Ok! Claire! Che sollievo a vederti! Stai bene? Invece di stare così Sì, sono tutto intero Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Eh, purtroppo no Ma tu stai bene? Diciamo che sopravvivo Ottimo Notizie di tuo fratello? No, non ancora Claire, non arrenderti Sono certo che lo troveremo Eeeh, ha esplosato un po' Yeah Ti arrivano tutti gli zombie Ora di cena È meglio che tu vada Non preoccuparti per me Fai attenzione Claire devi andare Ora Eeeh, ce la faremo Eeeh, ce la faremo Insieme Marvin Già lasciato il nostro Marvin Guardate cosa abbiamo provato Uhlala Credo anche questa Che si vola Oh, così possiamo andare Ok Merda Dai Eeeh, fattene giù Resta brutto Rotto pastate Oh, merda E ora mi sarebbe servito Anche l'altro Per tappare Eeeh Puttana Tua sorella L'ho fatta scoppiare Quella merda Merda Io non ho Aschi Ben a passo Mi spargo Ok È possibile che mi serve Per la trella Via la sedia Oh, anche questo Mi serve Via, 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 via Via che c'è Marvin Mi è diventato Un zombo Eh, però Fammela tirare Sta leva, no Per chiudere Apro quando No, va bene Cosa deposito? Niente Salvo e basta Salvo e basta Oh, no È ancora vivo Ah, ok Ma non gli puoi dare un po' di quello spray Che tu Di te, no, eh Allora, abbiamo detto Che ho quello Il bagno Per arrivarci prima Eh, da questa parte Lo so che sto facendo Sto facendo un po' di stessi giri Di prima Però Ce n'è bisogno Oddio Quello è ancora vivo Eh, vabbè Però Che palle Che fate Ah, non c'è Ah, no Che palle Invece si spostano Quello Che palle Lì mi sembra vivo Ok, è morto Ti prego Non ho un'altra zombie dentro Per la polvere da sparo Un posticino ce l'ho, eh Eh, sì Me la fa prendere Cos'è dirò Ah, io sto posto Non ho un posto per te Signora giacca No, giacca Che cazzo dico Oh, figa Quale Granata Stordente Un posto dove Cosa da carri Premendo spazio Se viene Ah, ok Che cazzo dico Che cazzo dico Che cazzo dico All'interno Cazzo dico Di combinazioni A tre cifre Spostato L'ufficio Star Sud F L'ufficio Ovest Uno S La combinazione È Madonna Ah, vabbè Non ho un po' A sinistra Nove Destra Quindici S La chiavetta USB Una Deagle Comunque qua Ci sono un sacco Di cose Che Dovrei Prendere Non deve fare Una Scampagnata Depositare Ok Lì serve Una chiave Nuova Ok 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 Porca Madosca Vaffanculo Che Avete rotti I coglioni Fatevi Cazzi Vostri Non entrerò Mai Più In una biblioteca In vita Mia Mannaggia Mannaggia Tia Allora Deposito Quella Prendo la polvere Da sparo Metto via Questa chiave Che mi sembra Non servirmi Più Ora Combino Queste Tanto Questa La dovrò Utilizzare Ora Per Far Esplodere Il C4 E C'è La cassa Forte Che è Qui Dovrebbe Essere Questa Quella Dell'ufficio 1 Allora 9 Sinistra 9 Destra 15 Sinistra 9 9 11 Ma è cazzo! Cos'è? Questo è l'ufficio L'ufficio Office F1 West Office Questo No Provo 7 Scusatemi Ma questo non è Ah Magari c'è qualcosa che mi serve Perché il 9 non va? Scusa Allora io intanto se metto a destra Lui mi fa così Però Destra Sinistra 9 E che però sarebbe destra Se faccio la stessa cosa dall'altra parte Non funziona Perché? Vabbè Magari c'è in realtà l'altro tastierino Provo Non so Destra 15 no? Sinistra 15 Destra Ogontro 7 Dall'altra parte 7 No vabbè Vaffanculo Ho perso Un quarto d'ora solo per questa cosa Ah Torno sud Che cazzo si è rialzato? Che cazzo si è rialzato? Che cazzo si è rialzato? No No Ok Sembra uno fuori Yes E' uno lì la cosa Qualcosa Qualcosa non me lo aspettavo così brutto comunque Eh? Non era questa che serviva? Nooo Non me lo dire O Che cazzo si è rialzato? oddio eh niente io devo per forza andare cosa mi può servire con la batteria? io non ci vado perché si spacca non ci vado vabbè a deposito questo prendo anche ah si possono impilare allora le assi no vediamo proprio dal sparo no ok questa è la qualità gna gnera però detto questo più questo è una bomba ok oh salve niente devo andare a lufficio ovest terresta gioia bravo no 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 Ok, 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 ok Il mostro ciccione Siete stronzi voi zombie però Niente Sono davvero Bloccato E non riesco a capire Ora io sto pensando a una cosa stupida Ma Non so se potrebbe Andare bene Ma potrebbe funzionare Una logica c'è dietro Una logica dietro C'è No Non funziona Ok Ok niente Ora dai Infilavi lo scettro Tiravi giù Easy no 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 E' questa Ci riprovo E' questa E' questa Ok Non dovevo toccare niente Dovevo fare così e basta A posto Tutto questo per un borsello Che schifo non fa Ma io ho bisogno di altre cose adesso Cioè io Ho bisogno Di far esplodere quella cosa Ci devo combinare Qualcos'altro Non posso semplicemente farla esplodere Mi chiedo io Oh che pallo Ma ci muove Ma perché qui c'era il cavalluccio Qui siamo nella zona nuova Non c'è bisogno della chiave nuova Non esplode Sembra proprio l'attacco di una batteria Allora Mi chiedo Perché io queste le posso spostare Però non ha senso fino a che quello è bloccato Alla prossima Mi serve una lena cosa strana Ho lasciato qualcosa Ma che Dai non è della faccia Alla prossima Tipo pure qua serve una chiave Va bene Troverò qualcosa Ma per ora sono bloccato Quindi penso che proprio Per concludere questa Run di registrazione Mi fermo Che sono qui da un'oretta e mezzo E niente Cercherò un attimo da solo per andare avanti Perché se no qui faccio video di mezz'ora e mezz'ora Ma rimango sempre fermo qua Quindi niente Io vi ringrazio per la visione Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre E niente Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 c'è Ciao c'è Ciao c'è